Musica Alla mostra a mercato Italia Vacanze, tenutasi al parco esposizione di Novegro, Truma, l'azienda tedesca leader nella produzione di sistemi di riscaldamento a gas per veicoli ricreazionali, ha incontrato il pubblico nell'area Viva Voce. Tra gli argomenti trattati da Marco Zani, Sales Manager Aftermarket di Truma, la cura e la manutenzione dei sistemi di riscaldamento, la normativa e la sicurezza in tema di impianti del gas. Buongiorno, sono Zani Marco della Truma, sono qui con il signor Ferrari, il nostro centro di assistenza qui della zona di Milano. Vi parlo della fiera di Novegro dove ho partecipato con mia soddisfazione al Viva Voce, per la quale ringrazio la fiera stessa, che dà la possibilità ai fornitori di avere contatto con il pubblico. Ne abbiamo approfittato per fare una carrellata delle novità della Truma, mi sto riferendo alla Mover, alla nuova Mover XT, al nuovo comando CP Plus per le combi, alla pila combustibile Vega, abbiamo poi parlato anche di argomenti a noi molto cari, quelli quindi della sicurezza, controlli degli impianti gas, riscaldamento durante la marcia. Una cosa a quale tengo in modo particolare è il nuovo comando della CP Plus, quindi la combi digitale, che è stato presentato un paio di mesi fa e che sta avendo un ottimo successo. Questo comando permette di convertire la stufa con comando analogico in stufa con comando digitale, tradotto in termini pratici, un comando che permette di aggiungere molte funzioni, come quella di avere il busto, che vuol dire riscaldare l'acqua o l'aria in modo molto più immediato, molto più veloce, la possibilità di programmare la stufa stessa, la possibilità di avere una regolazione delle temperature a gradi, cioè non più come il comando precedente, posizione da 1 a 5, ma per gradi reali, perché il comando stesso si può impostare, si può regolare, e questo comando si può montare su tutte le stufe recenti, fino alle stufe a partire dal 2007, quindi stiamo parlando di combi che dal 2007 sono diversi centinaia di migliaia che possono essere aggiornate, modificate, per migliorare il confort del camper, dell'utente che utilizza i nostri prodotti. Il CP Plus, oltre che ad aggiungere funzioni alla combi, può essere utilizzato per controllare sia il nostro condizionatore a venta eco, il nostro condizionatore a tetto, sia per controllare il condizionatore a pavimento, il sapphire, quindi con un comando possiamo controllare e programmare diversi apparecchi, almeno tre apparecchi, e questa è una novità assoluta per poter facilitare l'utilizzo dei nostri prodotti sul camper.